Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Voi, vai, vai, vai. I miei piedi, abbiamo sinistra. Poi, quella deve stare. È una parte negliate che, la ciotola è quella che deve staccare, Devi essere più violento nel cambio di direzione! Però, una cosa importante, visto che mi sembrava che la macchina mi ha lasciato andare alle siate, quando hai dato gas, lei si ripresa, quindi a volte si sembra di andare contro, ma se tu dai gas, automaticamente lei ti tira fuori è una più lenta che lo stereo e appena è un gas a sinistra che è il resto è un po' di ganglia è un po' di ganglia ma comunque è così però ora si è sentito tantissimo poi è chiaro che il discendere non riesce ancora non riesce ancora a superare è un po' di ganglia è un po' di ganglia è un po' di ganglia ce l'ho fatta perfetto vedi che puoi sentire bravissimo perchè alla fine hai guardato il vetto se non hai collato quindi dai via giuro non per fare presunzione però ti sei involontariamente distante sei sentito guardato perfettamente guardate ti dicevo gas 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 siete tutto bravissimo ci credi che non mi so cosa che vado con il vetto io mi so concentrato solo non perchè passino in freno io no vado quando fai i cambi di direzione sei nato dentro troppo forte sei nato dentro troppo forte quando vai più forte devi velocizzare la manovra ok siamo allargati tutto perchè sicuro è più forte si dilata la macchina fa la retta ma sono entrato più forte quindi per il punto devi chiudere visto che pure si taglia la violenza un filo più piano è più veloce della manovra un filo più piano c'è distante un filo spesso è permesso che si trova ok una destra una destra un filo più piano una destra una destra una destra una destra un filo più piano un filo più piano un filo più piano esattamente quello che dobbiamo fare con l'acqua un filo più piano